Allora, intanto a me vengono fatti tanti inviti, non perché sia particolarmente meritevole io, però il tema del linguaggio è un tema che affascina. Di solito io accetto gli inviti in cui c'è in qualche modo un incontro e mi capita spessissimo di tornare con delle domande. Per esempio oggi l'accento che è stato posto sulle questioni del significato empatico non era emerso in altri momenti, quindi per esempio cosa accade se una persona nomina, un ragazzo mi ha chiesto se io dico mamma e ho perso i genitori, che forma la parola mamma al mio cervello? Ecco domande di questo tipo che evidentemente ancora oggi non hanno una risposta e forse non l'avranno mai, diventano uno stimolo molto forte e poi comunque la condivisione della curiosità è di per sé già uno stimolo straordinario, avere domande sul mondo in cui siamo, è comunque una cosa interessante.